Welcome amici, ben ritrovati! Ciao a tutti, ciao Laura! Ciao a tutti, benvenuti a tutti gli amici, benvenuti cari amici russi, oggi i nostri amici russi hanno scelto questa canzone grazie al gruppo telegram che abbiamo fatto che invito tutti gli amici ad unirsi al gruppo telegram che potete vedere nella descrizione oppure passerà dopo la grafica con il canale, il nome del canale che è comunque Davide Calte TV su telegram dove ho mandato un messaggio di dirci alcuni titoli e avremmo scelto due titoli che ci proponevate voi che siete in questo canale telegram. E con questo cari amici avete scelto questa cantante appunto che si chiama Laura? Si chiama Sevara, è una cantante che ha iniziato nel 2000, nell'inizio del 2000 ha iniziato come solista, lei è uzbeka e anche russa ovviamente e appunto si chiama Sevara Nazarka, per la certezza, che oggi andiamo a reazionare con la canzone che si chiama Non ci sono, abbiamo letto il testo qualcosa di incredibile, come la mancanza di qualcuno possa essere così importante. Ringraziamo, stavo dimenticando, Elia per aver segnalato nel telegram appunto questa canzone. Ma appunto parliamo di questa cantante, abbiamo scoperto che il testo è veramente molto struggente, molto, come dire, pieno di passione, pieno di amore, verso la mancanza di chi non c'è. Quindi sta poi a voi un po' l'interpretazione andare a vedere un pochettino cosa si può cercare. Laura, abbiamo una nuova artista russa da reazionare insomma, contenti sempre di andare a scoprire, grazie anche ai nostri amici, sempre nuove voci nuove espressioni di musica russa. Ma hai fatto una cosa bellissima Davide, che hai questo gruppo così, hai stati tutti insieme, parlando delle cose importanti. Assolutamente non solo i russi, ma ovviamente ci sono spagnoli, ci sono messicani, ci sono tutti quindi è un raggruppato in un gruppo mondiale. Venite anche voi, fateci, fateci visita, come si suol dire. Che dire amici? Io direi Laura di andare a guardare questa reazione, di partire. Tu sei pronta Laura? Partiamo Davide. Va bene, andiamo subito a reazionare questa canzone. Grazie a tutti. 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 di prendere un pochettino contatti però aspettiamo sempre voi che ci fate le segnalazioni perché ovviamente è un terreno nuovo un terreno nuovo per noi un terreno come la Russia nel senso che ci stiamo addentrando adesso con tanto amore verso di voi ascoltando sempre di più tutte le canzoni russe che ci stanno facendo innamorare soprattutto con dei testi fantastici quindi noi intanto ringraziamo tutte le persone che sono qui adesso che in questo momento io sto vedendo quasi che sono lì dietro lo schermo e stanno magari emozionandosi magari stanno scrivendo proprio adesso un messaggio per noi e vogliamo ringraziarvi perché i vostri messaggi sono davvero toccanti siete un popolo fantastico un popolo con un grandissimo cuore un popolo che sa amare e noi lo diremo lo diremo sempre perché a noi ci state dando tantissimo amore per continuare giustamente a fare questo nostro lavoro e quindi grazie grazie per ogni singolo messaggio e per ogni messaggio d'amore che ci mandate giornalmente perché giornalmente siete presenti vogliamo ringraziarvi ancora e in più vi invitiamo cosa molto importante di iscrivervi al nostro canale vi prego di farlo adesso e non insomma di capire queste mie parole che è importantissimo che vi iscriviate adesso in questo canale perché abbiamo giustamente anche noi la voglia di crescere sempre di più insomma e spatriare in tutte le parti del mondo come già stiamo facendo ma vogliamo sempre più allargarci per arrivare in tutto completamente il mondo e far sentire anche la musica russa in qualsiasi parte ovviamente del mondo ma in più vi dico anche di commentare come fate di solito di attivare la campanella notifica e di mettere tanti tanti like in più come voi sapete signori potete aiutarci visto che voi sapete benissimo che la nostra monetizzazione è bloccata soprattutto in Russia che non viene nessun video monetizzato quindi non guadagniamo niente dalla Russia vi chiedo soltanto se potete aiutarci con donation alert che trovate nella descrizione e ci date la possibilità di continuare sempre di più insomma di lavorare con una piccola donazione che potrebbe essere anche un rublo ma ci aiutate molto perché siete in tanti e magari potete aiutarci a continuare noi questo lavoro tranquillamente grazie per essere stati qui con noi grazie Laura continuate a segnarci tante cose vi amiamo cari amici russi un abbraccio forte ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.